Sì, quest'anno per il settantesimo insieme a Lampi abbiamo voluto fare un lavoro un po' più articolato che comprendesse tre giornate. Primo perché fu una scelta importante già allora, dopo circa due mesi dalla morte dei tre martiri a pochi giorni dalla liberazione dei Rimini, l'amministrazione comunale di allora scelse di intitolare quella piazza ai tre martiri rendendoli il simbolo della resistenza di questa città. E quindi dopo 70 anni noi questo lo volevamo ricordare con forza e farlo su più giornate, inserendo tutta una serie di iniziative che potessero arrivare un po' a tutta la città, ma secondo anche le diverse età, le diverse sensibilità o interessi. I temi centrali sono stati quelli dei giovani della scelta, perché i tre martiri erano tre giovani così come la stafetta partigiana, protagonista dello spettacolo che ci sarà domenica 17, era una giovane diciottenne che ha fatto una scelta, la scelta di non restare a guardare, di non rimanere inerme, ma quella di posizionarsi è di lottare per la libertà, per i diritti di tutti e di tutte, per la democrazia in questo paese e per consegnarci un paese diverso. E quindi all'epoca i giovani in massa fecero questa scelta importante, decisero di cambiare uno stato di cose e abbiamo voluto provare anche ad attualizzarle, proprio perché sono passati ai 70 anni e non può essere un mero ricordo, ma deve essere un'attualizzazione di quello che è stato il percorso fatto da tanti ragazzi partigiani che hanno voluto ribellarsi al nazifascismo. E quindi su questo ci siamo concentrati, abbiamo coinvolto anche ragazzi del progetto Memoria, proprio perché dal viaggio ad Auschwitz con loro quest'anno abbiamo lavorato molto sul tema della scelta, quindi sulla figura delle vittime, dei carnefici, ma degli spettatori. E sono quelli che sono importanti oggi in uno scenario come quello attuale dove forme di violenza, di attacco alla pace, di attacco ai diritti li vediamo tutti i giorni, li sentiamo tutti i giorni e dove le guerre che stanno circondando il nostro territorio e che si muovono in un contesto internazionale sono ovviamente qualcosa sui quali noi ci dovremmo interrogare, ci devono interrogare anche i giovani. E quindi motivo per cui questa tre giorni l'abbiamo caricata anche di questo senso. Quest'anno come Ampi di Rimini abbiamo scelto di celebrare l'anniversario, che è il settantesimo, dell'uccisione dei tre martiri in un modo più, se vogliamo, completo, più articolato. Ci piaceva fare un qualcosa di diverso dagli altri anni, celebrarlo cercando di avvicinare più persone possibili, anche con gusti anche musicali diversi, con sensibilità diverse. Per questo abbiamo proposto una serie di eventi spettacolo che spaziano da un concerto dei Korakanè, che è quello della serata principale, quella del 16, al concerto della Mondaino Young Orchestra, che è una realtà del nostro territorio di giovanissimi, quindi si lega col tema di quest'anno, appunto, che è le resistenze di ieri e di oggi, quindi come trasmettere il valore della resistenza ai giovani. La Mondaino Young Orchestra è un'orchestra di giovanissimi in età media di 15 anni e dà un legame con il nostro territorio, così poi come i Korakanè, che sono comunque della zona di Forlicesena. E lo spettacolo di Marta Cuspunà, che è la storia di Ondina Petiani, una giovanissima partigiana, la prima partigiana deportata ad Auschwitz, che è la domenica pomeriggio, il 17 alle ore 18 al Teatro Tiberio. Anche lì è un po' una sfida, perché domenica pomeriggio a Rimini non è facile riempire un teatro, ma chi parteciperà sicuramente non rimarrà deluso, perché è uno spettacolo molto bello, molto intenso, con linguaggi anche diversi dai soliti, ed è uno spettacolo che qualifica comunque queste celebrazioni, con uno spettacolo un pochino più impegnato rispetto invece ai momenti musicali. La sera del 15 è un appuntamento invece un po' più intimo è stato detto. Sì, abbiamo voluto anche ricordare il luogo dove i tre martiri sono stati, quindi tre ragazzi giovani, che la sera di Ferragosto sono stati imprigionati in quella che era allora la caserma dei Carabinieri alle Grazie e abbiamo pensato di andare anche là, la sera del 15 agosto, anche per fare un ferragosto un po' diverso, è vero più intimo, più riservato, però ci piaceva andare anche là, 70 anni dopo, nel luogo dove sono stati incarcerati, sapendo che la mattina dopo sarebbero stati uccisi per le loro idee. Grazie.